Ciao a tutti, oggi prepareremo la mousse di tonno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 minuti più 2 ore di riposo in frigo. Ingredienti sono tonno sott'olio sgocciolato, capperi sotto sale, ricotta, andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il tonno e i capperi li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 5. Uniamo sul fondo del boccale con la spatola e tritiamo ancora per 10 secondi a velocità 5. aggiungiamo sul fondo del boccale, aggiungiamo la ricotta e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. trasferire in una ciotola e riporre in frigo per 2 ore mousse di tonno si conserva in frigo per 2-3 giorni. Grazie e alla prossima ricetta a presto!